Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è sabato 13 novembre 2021. Come sempre iniziamo la giornata leggendo i giornali, dando un'occhiata alle notizie del giorno, sfogliando il Corriere Adriatico e il resto del Carlino. Comunque iniziamo, iniziamo questo nostro incontro con il Santo del Giorno e il Meteo. Oggi è Santo Mobono Tucenghi, al di là di quanto potrebbe far pensare il suo nome, è un santo italiano, visto nel XII secolo. Fu un uomo ricco, era sposato, aveva due figli, ma era dotato di un grande senso della carità, aiutò i poveri e compì molti miracoli. Fu il primo laico ad essere canonizzato da un Papa, quindi un santo italiano molto caro. Il Vangelo dice, è molto difficile che un povero, che un santo anzi entri in paradiso passando dalla cruna di un ago, mentre invece è molto più facile per un povero. Ebbene, Tucenghi sfatò un po' questa dichiarazione. E veniamo al meteo, vediamo che il tempo è nuvoloso, ma con tendenza, diamo un'occhiata anche alla mappa, ecco sì, con tendenza a schiarite temporanee, soprattutto nel pomeriggio. Il tempo è un pochino più incerto nel sud delle Marche, più tendente al sereno nel nord, quindi nella nostra provincia. Le temperature comunque sono in calo. Ed ora diamo un'occhiata invece alle prime pagine, dove sono sintetizzate le notizie. Vediamo che sul Corriere Adriatico si apre con la Sanità, terza dose stretta sui tempi. In cabina di regia richiesta un'accelerazione sui vaccini. Ecco il piano presentato dalla Regione in nove mosse, l'appello dell'assessore Saltamartini ai sindaci. Ora ci aiutino a trovare locali idonei per un'azione di massa, una reazione importante, quella della Regione, per contrastare questa quarta ondata che si preannuncia particolarmente impegnativa. La fotonotizia è dedicata ad ulteriori episodi di bullismo che si verificano all'interno del trasporto pubblico, dei mezzi del trasporto pubblico. I conducenti della società Bucci dicono in modo particolare, anzi scrivono una lettera al prefetto, un'escalation di aggressioni. A centropagina i ragazzini spariti riabbracciano i loro familiari. Sono stati ritrovati a Fano, i due ragazzi, i due liceali del Marconi di Pesaro. A Fano sempre due malviventi facevano razzia di biciclette, è un uomo, una donna. La donna addirittura è incinta, faceva queste azioni anche con un'altra figlia. Mondolfo investe un'anziana e non si ferma, e poi si pente e si reca in caserma. E poi la morte di un grande giornalista sportivo, Giampiero Galeazzi, che d'esta cordoglio anche nella nostra regione, era un mito, i marchigiani lo adoravano. Nuovo ospedale a Muraglia, niente scempio ambientale. Il sindaco Ricci incontra i residenti del quartiere. In partenza i lavori, anche per l'attesa circonvalazione. Le prime notizie sul Carlino, prima pagina. Noi autisti ostaggi dei baby bulli, dipendenti della Bucci, scrivono al prefetto. La fotonotizia dedicata ai vaccini, folla, folla, lunghe attese, colpa di chi non era prenotato, che comunque viene servito lo stesso, vaccini e proteste. E poi la coppia che rubava le bici, una coppia in manette, lei è incinta. E poi parla il proprietario di Piada Marina, una situazione incredibile. A lui è stato rimosso il chiosco che era appunto in zona mare. Per quanto riguarda i ragazzi, ritrovati a Fano, i ragazzi spariti, decisivi quattro coetanei che li hanno individuati. E poi dati i marchigiani sul turismo. Pesaro Urbino, regina delle presenze turistiche. Per quanto riguarda lo sport, Banchi, VL, è arrivato il tuo momento. Stasera contro il Napoli, un incontro importante. E poi invece la festa del tartufo, la sagra del tartufo d'Acqualagna. Tartufo bianco, gran chiusura ad Acqualagna. Ultimo fine settimana della fiera, oggi c'è il ministro Elena Bonetti. Restiamo sul resto del Carlino. E vediamo il tour di Ricci, del sindaco Ricci, compiuto a Muraglia. Non è stato oggetto di nessuna contestazione. Nuovo ospedale, basta bugie e polemiche, ha dichiarato il primo cittadino. Il sindaco in tour nel quartiere. Non sarà costruito sul colle il nuovo ospedale, ma lungo via Lombroso. Per l'interquartieri ci vorrà almeno un anno. I cittadini e agli amministratori, dice, intervenite sugli asfalti in via Pantano e in via Marsiglia. Per le buche si cade come birilli. I residenti hanno chiesto spazi per la socialità, iniziative e progetti di riqualificazione. Derisi e minacciati, la rivolta degli autisti. Clamorosa lettera al prefetto dei conducenti della Bucci. Siamo vessati dai branchi di ragazzi. Intervenga prima che sia troppo tardi. Ebbene, ci sono stati degli episodi eclatanti. Addirittura un ragazzo era in possesso di una pistola d'aria compressa che ha puntato contro un autista. Era un'arma a pallini. Il conducente gli aveva semplicemente chiesto il biglietto. Questo ha reagito in maniera inconsulta. E poi ci sono altri episodi. Un gruppo pretende di salire con un altro gruppo di amici, nonostante non sia possibile perché già il bus era pieno di passeggeri. A questo punto il gruppo minaccia l'autista. E l'autista chiama la polizia locale che arriva uno degli agenti, tira giù un ragazzo. E questo lo accusa anche di aver tirato un pugno, cosa che non era vero. E poi ancora è capitato anche che ci siano stati danneggiamenti ai mezzi e denunciati dagli stessi autisti. Insomma, una situazione ormai che non è più sotto controllo e quindi occorre intervenire. Ritrovati i ragazzi spariti, decisivi quattro coetanei, avvistati a Fano su un bus da un gruppo di studenti dell'Istituto Agrario. Li abbiamo riconosciuti subito e abbiamo chiamato la polizia, hanno dichiarato. I due ragazzi hanno riferito di aver dormito fuori nelle due notti in fuga e di essere stati ad Ancona, da dove stavano tornando quando poi sono stati intercettati. Comunque sembra che erano già decisi a tornare a casa. Ovviamente la commozione dei familiari quando hanno riabbracciato i loro figli. Il perché poi sono scappati di casa, hanno fatto questa alzata di testa, ancora è tutto da chiarire. Vaccini in 150 arrivano senza prenotazione. Alex Ristò di Pesore è polemica, su file e attese. Erano previste 284 persone ieri mattina, ma il numero è aumentato in modo esponenziale. Inevitabili le proteste, c'è chi ha impiegato in attesa oltre due ore. I numeri della pandemia, ieri i contagi, erano a quota 210, stabile il numero dei ricoverati. Visti i forti disagi di ieri mattina, è possibile però che già dalla prossima settimana si inizi a pensare a file separate. Una per i prenotati e quell'altra invece per i non prenotati. c'è anche chi continua ad essere presente, nonostante che venga consigliata la prenotazione. Comunque vengono soddisfatte tutte le richieste. Piada Marina è impossibile avere titoli edilizi. Stefano Sarti, titolare della società, ripercorre tutta la vicenda e gli scontri tra capitaneria e amministrazione, le amare conclusioni dell'imprenditore. Il problema affligge tutte le costruzioni realizzate al porto negli ultimi vent'anni, secondo appunto quanto prescrive la legge. Il pozzo del Burano per i comuni all'interno, interventi idrici, la proposta di Marche Multiservizi per rifornire l'acquedotto del Nerone, la sorgente di Sant'Anna, è una riserva per la costa. E ieri nel presentare il report annuale di Buone Acque, così si chiama questo documento, il presidente Daniele Tagliolini e l'amministratore delegato di Marche Multiservizi, Mauro Tiviroli, hanno voluto ribadire i numeri degli investimenti nel settore idrico. Nel 2020 l'azienda ha investito 63 euro pro capite, quasi il doppio rispetto alla media italiana. In sostanza si parla di 17,4 milioni di euro nel 2020, di cui il 51% nell'acquedotto, il 16% nelle fognature e il 33% nella depurazione. Tutto per quanto riguarda il sistema idrico. Dal rubinetto sgorga acqua buona e sicura, l'azienda conferma di essere in buone acque con 280 analisi al giorno tra ASL e laboratorio interno. Una volta l'acqua di Pesaro era imbevibile, ora invece di buona qualità. Giornata Mondiale del Diabete, il test della glicemia gratuito. Appuntamento oggi e domani in centro. Paolo Muratori, nel centro di diabetologia, servono rinforzi. Il servizio, è importante partecipare a questo screening, il servizio sarà attivo oggi dalle 9 alle 12 e nel pomeriggio dalle 15 alle 19, mentre domani solo nella mattinata dalle 9 alle 12. i diabetici a Pesaro sono 5.000, 67.000 nelle Marche, di cui 310 in età pediatrica. Ed ora veniamo alle presenze turistiche che vedono la provincia di Pesaro Urbino tra le prime a aver ospitato appunto i turisti nella scorsa stagione. presenze turistiche, la provincia svetta oltre 2.505.000, il numero più alto delle Marche, bene anche il dato sugli arrivi degli stranieri. Diamo anche un'occhiata a qualche dato. Pesaro Urbino gli arrivi sono più 27,18, le presenze più 37,65. In totale, tra alberghi e esercizi complementari, l'aumento dei turisti questa stagione è stato del 24,74% degli arrivi e del 26,03% delle presenze. Insomma, dei dati veramente importanti. nonostante qualche lamentela che è così apparsa sulla stampa la ribalta nei giorni scorsi. Sulla pagina di Fano vediamo che ieri è stato presentato il programma di Massima delle iniziative di Natale. Lo ha fatto il sindaco Massimo Seri insieme all'assessore agli eventi Etienne Lucarelli. Tutto pronto per la piazza? In forse dipende dai contagi l'evento inaugurale di impatto. esibizione dei pasticceri. Forse questa è la vera novità. Ebbene, ci sono diverse iniziative che verranno attuate a partire dal 27 novembre in poi fino al 24. Un albero di Natale in piazza alto 13 metri fornito da una famiglia dell'entroterra mi sembra di Bombaroccio una famiglia che ha appunto questo albero che doveva essere tagliato e quindi lo ha dato alla Proloco. Il Pincio ospiterà il villaggio del gusto con i box dove opereranno i pasticceri che insegneranno i ragazzi anche a fare i dolci. Ci sarà la pista di patinaggio in piazza Aveduti. torneranno i presepi finalmente si riaprirà il presepe meccanico di San Marco e sarà implementato anche il presepe dei carristi al Pincio e il corso cittadino e via Arco d'Augusto sarà valorizzato con splendidi e grandi lampanari e poi si animeranno con i mercatini il Pincio, via Arco d'Augusto che ospiterà anche altre casette in piazza 20 settembre ci saranno tanti eventi e quindi sarà una festa un'atmosfera diciamo meglio molto molto calda molto molto invitante perché tutti si recchino in centro ma guardate ci sono anche notizie iniziative dai quartieri dove ogni centro civico ogni piazzetta allestirà la sua festa quindi sia nei quartieri che in centro sarà un bel Natale almeno così lo speriamo. Altre notizie che riguardano Fano c'è Piazza Costanzi che un po' soffre perché i palazzi più importanti come Palazzo Torelli e Palazzo Saladini Ferri saranno avvolti con delle impalcature per lavori di restauro e questo nasconde un po' i negozi che ci sono al piano terra e questo ovviamente desta qualche protesta da parte degli operatori. Vediamo la cronaca rubavano biciclette a raffica coppia in manette lei è incinta puntavano soprattutto ai mezzi elettrici più costosi la donna andava in avanscoperta il compagno portava il bottino in Romagna sono stati però individuati dalle forze dell'ordine e quindi sono stati arrestati strade, piazze, scogliere arrivano 3,8 milioni anche al comune di Fano contributi per le opere pubbliche si tratta di un bando ministeriale per la sicurezza del territorio e degli edifici ebbene il comune ha previsto diversi interventi con questi fondi sono 3,8 milioni che saranno suddivisi per 500 mila euro per il rifiorimento delle scogliere del bersaglio 830 mila euro per l'acquedotto fognario di Sassonia 150 mila euro per realizzare opere di contenimento a Monte di Rio Crinaccio 430 mila euro per dare una risposta al quartiere di Carignano che è alle prese con il rischio idrogeologico 500 mila euro per riqualificare piazza Marcolini altri 500 mila euro per ultimare l'acciclabile lungo via Papiria fino alla nuova costruenda piscina nei pressi dell'aeroporto e poi abbiamo ancora altri 950 mila euro è l'intervento più oneroso che vedrà la riqualificazione della seconda parte di via Garibaldi e poi via Battisti fino a viale Adriatico via Battisti che versa in situazioni di degrado veramente importanti a terre roveresche ladri in fuga a piedi nei campi continua la caccia dei carabinieri viaggiavano su un punto blu potrebbe essere la banda autrice dei furti al confine tra la provincia di Pesaro e quella di Ancona e poi ancora un'incursione dei lupi a denunciarla questa volta è un professore si tratta di Guido Guidi amara sorpresa per lui i lupi hanno sbranato le sue caprette il costituzionalista molto noto affronta lo spinoso tema della regolamentazione del predatore decide lo Stato non la regione comunque il fatto è venuto nelle campagne sopra Fermignano poverine queste pecore sono state addirittura squarciate dalla attenzione famelica dei lupi e poi ancora oltre i lupi c'è anche il problema dei cinghiali interviene Londei cinghiali padroni di Canavaccio sono stati avvistati davanti alla banca sulla rotatoria lungo la Fano Grosseto è ora di intervenire ed ora diamo un'occhiata al Corriere Adriatico abbiamo già visto la prima pagina diamo un'occhiata invece alla questione della sanità vediamo che ora inizia l'assalto alla terza dose in nove mosse ecco il piano della regione nella cabina di regia disposti rinforzi a tutti i livelli per la macchina organizzativa Salta Martini dice i sindici ci aiutino a trovare locali idoni per una azione di massa e io vi invito a dare un'occhiata anche a questa tabella una tabella importante dove viene richiamato il grande piano per il richiamo del vaccino cosa succede nella nostra provincia cosa succede a Fano ma anche nelle altre parti della regione rischio moderato verso il rialzo le marche osservate speciali dopo il friuli schizzato alle stelle ieri sono stati 230 i contagi ma la situazione è stabile negli ospedali e purtroppo si è verificato ancora un decesso pistola puntata esplode colpo bulli padroni far west sui bus il ragazzo impugnava un'arma d'aria compressa ma l'autista di linea è rimasto traumatizzato un fatto serio questo e nemmeno l'unico i conducenti esasperati chiedono al prefetto di intervenire la situazione è veramente ormai diventata insostenibile e occorre che ci sia una sorveglianza in più e questo lo richiede anche Massimo Benedetti che è il direttore del trasporto subito provvedimenti già avviati le verifiche l'impegno di Ottaviani e Benedetti presidente direttore di Adria Bus un richiesta che ormai non può non essere ascoltata Emanuele e Nicolás tornati a casa l'incubo è dissolto da un abbraccio i due studenti sedicenni notati ieri mattina vicino alla stazione di Fano dopo 48 ore di girovagare sembra che abbiano passato le notti dormendo alla diaccio Emanuele Pucci e Nicolás urbinati sedicenni e studenti del liceo scientifico Marconi sono tornati a casa insieme con le numerose risposte che dovranno dare ai loro genitori e forse sapremo anche noi il perché Il nuovo ospedale su Via Lombroso nessun scempio sul Colle Ardizio lo ha detto il sindaco Ricci ieri che ha incontrato i residenti di Muraglia per spiegare le future opere nevralgiche della città La situazione sembra ormai calma nonostante che poi la Lega insorga sulla decisione assunta dai tecnici della regione che hanno privilegiato Muraglia a case bruciate comunque sembra che la Lega ormai si adatti a questa vicenda infatti Riccardo Augusto Marchetti dice per l'ospedale non volevamo Muraglia ma i nostri obiettivi sanitari sono altri e il commissario regionale dà la linea fonderemo Marche Nord nell'azienda provinciale insomma si fa un po' buon viso a cattivo gioco si parla si cerca di spostare l'attenzione non ormai su questa decisione mal digerita ma su quello che si dovrà fare ovvero il superamento dell'ospedale unico la revoca del project financing e ancora la riorganizzazione sanitaria con la creazione di un'azienda unica provinciale autonoma nella quale fondere anche l'azienda Marche Nord sembra questa ormai la linea scelta dalla regione Marche Multiservizi pensa in grande 5 opere da 90 milioni e contiamo di portarne a casa almeno 30 i progetti esposti dall'amministratore delegato Tivi Roli e dal presidente di Tagliolini di Marche Multiservizi per superare l'emergenza idrica progetti che puntano sugli investimenti legati ai fondi del PNRR a Vallefoglia a Qualagna il gran finale celebrerà il tartufo bianco oggi attesa la ministra Bonetti domani parterdi ospiti e rinomati chef vediamo la foto dello chef Luca Montersino e lo chef Giorgione sono presenze fisse ormai ad Acqualagna si perde nei boschi soccorso un tartufaio è stato rintracciato aveva 74 anni è stato ritrovato dai vigili del fuoco tra Urbania e Fermignano ed è intervenuto anche l'acquedotto sulla pagina di Urbino ospedale la carica del centro-sinistra tutti uniti per la sua salvaguardia i rappresentanti del Partito Democratico Urbino e Art chiedono un consiglio comunale monotematico e allargato per trattare questo tema di vitale importanza per la città ducale a Fano abbiamo una novità aeroporto la provincia vende la quota e la società vuole rivalersi su Santorelli due eventi di gestione straordinari per la Fano un fortuna Lucia Tarsi consigliere comunale di Fratelli d'Italia chiede la commissione di controllo e ancora non ha pace la vicenda dell'aeroporto sebbene i conti siano stati rissanati dall'attuale amministratore Massimo Ruggeri a parte la questione degli ammortamenti che lui ha ereditato dalle precedenti gestioni due eventi di gestione straordinari che dovranno un po' risolvere il futuro della gestione dell'aeroporto perché poi dovrebbe essere messa a gara Brunori difende le scelte per gli impianti sportivi incalzata da Ser Filippi sulla gestione delle palestre di Cucurano e Carrara e poi ancora un'altra notizia che proviene dal Consiglio Comunale dell'altra sera il biodigestore deve essere pubblico mascarina valla la mazione dei Cinque Stelle solo pedini contrario alla richiesta all'ata di concorrere ai 40 milioni Fano sarà più bella per Natale in regalo dal governo 3,8 milioni presentate le iniziative concordate tra Comune Proloco e Associazioni il via al 27 novembre abbiamo già parlato di queste iniziative dovrà essere un Natale rinato rispetto insomma al Natale oscurato del 2020 e poi la notizia sul Corriere della Coppia che faceva razzia di biciclette e poi altri aiuti per l'Atari nessun voto contrario la delibera di Cucchiarini eroga 400 mila euro a imprese e famiglie l'opposizione non vota si astiene digerisce la cosa ma non c'è nessun voto contrario e poi vediamo ancora ieri sono stati inaugurati due appartamenti per i disabili a Gimarra soli mai pronti per Natale i primi due appartamenti assegnati a cinque disabili accompagnati nella loro quotidianità da educatori un'ultima notizia c'è allarme per la sicurezza stradare il conducente si presenta in caserma la notizia proviene da San Costanzo dopo un incidente di cui ha fatto le spese una donna che rientrava a casa e stava camminando sulla strada orcianense un incidente ha provocato il ferito di questa donna l'autore dell'incidente è scappato poi però ci ha ripensato e nel pomeriggio si è costituito in caserma insomma e quindi dovrà essere valutata la sua posizione prima di chiudere concludiamo con qualche notizia di sport Banchini visse sarà questione di testa il tecnico indica la strada in vista della sfida di domani contro il Modena l'aspetto emotivo farà la differenza ecco come affrontarli quindi anche un intervento dal punto di vista psicologico mentre per il Fano il mister è ancora un mistero domani tocca al vice fiscaletti paiono tramontati i nomi locali come Omiccioli e Manueli per la VL per la VL abbiamo una dichiarazione di Banchi VL ora dimostri la tua forza alle 20.30 contro Pesaro cerca la seconda vittoria stagionale T-Rick Jones dovrebbe farcela Jeremy Pargo è al debutto con la Gevi e questa era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento alla rassegna stampa di domani di lunedì anzi di lunedì sempre alle ore e sette buona giornata a a la a Grazie a tutti.